Abbiamo presentato un progetto che la regione Abruzzo ci ha finanziato, sono 140.000 euro che andremo a fare un progetto di recupero della memoria e della traccia nostra, che è importante la nostra, a ricostruire questo percorso. Uno di questi sarà ricostruire una delle tre accezioni. Pizzoferrate sempre caschiamo cuci per tre motivi. Uno perché è in partenopea, napoletana, diciamo ferrate, da lì pizzoferrate, infatti vedete che il ghiaccio diventa quasi l'unicum con la pietra, no? E da lì pizzoferrate. L'altra perché vedete le nostre rocce? Sono striate di arancione, quello è il trasunamento del ferro. Sembrerebbe, non sono un chimico, non è un geologo, però... E l'altra, dopo ci sta una terza ipotesi perché alle 21 ore la sera veniva chiusa la porta che sarà all'ingresso lì del paese, perché il paese stava tutto lassù. Bene, noi vorremmo ricostruire quella porta e fare questa chiave che apre veramente la porta di Pizzoferrat, la porta della memoria, e di quella poi la andremo a riportare a Bruno. E vi dico questo perché? Perché la nostra, insomma, io avevo un po' di plasht, che si vedevo, non era molto figa, insomma, non era una roba... Però Bruno, pur dando prosto di rispetto a tutti i trofei, perché ne ha tanti, ve l'ha detto lui, della verità, io l'ho visto, la chiave di Pizzoferrat è la dei Jimmy Jimmy Gini. Cioè, la chiave è nostra, anche se è il doplasht, però è bello, questo è vero, l'ho visto io e ci fa tanto onore, è stata una cosa bella. E questo volevo dire perché è una cosa veramente speciale, importante, no? Tra l'altro poi Bruno ha fatto tante cose belle, no? L'ultima volta che è venuto qui è venuto accompagnato anche da un grande manager, una bravissima persona che purtroppo ha deceduto, ma noi che riconosciamo e ricordiamo come amico di Pizzoferrato, in cui questi anni ha sviluppato relazioni. Io vi dicevo prima, non sono riuscito ad aprirla, perché, insomma, non siamo molto... Ma questa è la lettera ufficiale del comune di Pittsburgh, che ci ha mandato per il gemellaggio a Pizzoferrato, firmato dal sindaco, dall'ufficio del sindaco. E ci teniamo a mostrare, perché, vedete, noi siamo un piccolo paese, Pittsburgh è una grande città e questo è anche un titolo di merito, di onore per noi, essere in rapporti ormai, importanti rapporti, avere un accesso particolare in quella municipalità. Io so che ci sono stati anche dei pizzoferrettesi che sono stati lì a studiare nelle università e negli ospedali di ricerca di Pittsburgh.